emergenza caldo allerta rossa prolungata fino a sabato domani anche ellish line alla festa dell'unità di pesaro discarica di riceci a un bivio la prossima settimana si decide alluvione di maggio sbloccati 4 milioni per gli interventi urgenti a pesaro parte un monitoraggio ambientale attraverso le app buonasera e ben ritrovati al nostro rossini news il telegiornale della provincia di pesaro e urbino in questa edizione apriamo aggiornandovi sul picco di caldo di questa settimana la protezione civile ha emanato oggi un nuovo bollettino che prolunga fino a sabato 22 luglio compreso lo stato d'allerta rossa per persistenti ondate di calore con temperature superiori ai 35 gradi si tratta di un indicatore che allarga i possibili effetti negativi sulla salute anche persone sane attive e non solo a categoria rischio come anziani bambini e persone affette da malattie croniche nel tg di ieri vi abbiamo mostrato come anche il pronto soccorso di pesaro si sia attrezzato per fornire accessi con un percorso differenziato a coloro proprio che presentano pericolosi sintomi da colpi di calore è iniziata proprio in questi minuti la nuova edizione della festa dell'unità 2023 di pesaro e c'è già un fuori programma poche ore fa è stata infatti annunciata la presenza a pesaro di elli schlein che salirà sul palco di baia flaminia domani alle ore 21 nell'occasione segreteria nazionale dem interverrà delineando le prossime strategie politiche del partito democratico un intervento che sarà preceduto dai dibattiti quale sanità per l'italia e l'opposizione pd tra ancona e roma cambiamo argomento e torniamo ad occuparci della discarica di riceci la prossima settimana infatti dovrebbe essere quella cruciale per prendere una decisione definitiva sulla realizzazione o meno di questo impianto intanto ieri marche multiservizi ha esposto la sua relazione sul progetto nel consiglio comunale di urbino vediamo sarà probabilmente il consiglio di amministrazione di marche multiservizi di lunedì 24 luglio a dare indicazioni più precise e forse definitive sulla decisione di realizzare o meno la discarica di rifiuti speciali nella collina petrianese di riceci ieri la telenovela ha avuto un'altra puntata accesa ma interlocutoria nel consiglio comunale di urbino dove l'amministratore delegato e il presidente di marche multiservizi mauro tv roli andrea pierotti hanno relazionato sul progetto da realizzare accolto dal dissenso dei manifestanti e della stessa politica urbinate un parere contrario che era già stato ratificato dal consiglio comunale di urbino con buona pace della relazione di tv roli che anche ieri sera ha sottolineato la necessità di un impianto di smaltimento di rifiuti che rappresenta una criticità oggettiva per il territorio sottolineatura accompagnata dalle rassicurazioni su livelli di efficienza gestionale dell'impianto più combattuto l'intervento del presidente pierotti cartina tornasole di un consiglio di amministrazione di marche multiservizi spaccato sulla vicenda la prossima settimana sarà presumibilmente quella decisiva con i soci di marche multiservizi che risponderanno delle decisioni che emergeranno da un cda quanto mai atteso stanno per essere erogati 4 milioni di euro per i sette comuni della provincia di pesaro urbino inseriti dal governo nello stato d'emergenza per l'alluvione dello scorso maggio lo ha assicurato il commissario alla ricostruzione francesco paolo figliuolo in visita ieri nella nostra regione marche prima di tutto attivare il riparto di finanziamenti dei 4 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza nei sette comuni pesaresi inseriti nel piano d'emergenza dopodiché valutare risposte alle esigenze dei 160 comuni non ancora inclusi nel cratero alluvionale dello scorso maggio e questo il doppio filone d'azione su cui si instrada l'azione di governo dopo i danni dall'alluvione dello scorso maggio lo ha annunciato ieri il generale francesco paolo figliuolo in visita ad ancona dopo aver fatto tappa in romagna la prima linea d'azione ha detto il commissario alla ricostruzione riguarderà dunque i lavori di somma urgenza nei sette comuni fin cui indicati ovvero pesaro urbino fano monte labate gabice mare sasso corvaro e monte grimano terme sostanzialmente sono affluite adesso le prime risorse per far fronte agli interventi di somma urgenza e così come ho detto questa mattina a Forlì sostanzialmente la struttura ha come obiettivo principale in questo momento anche sull'indicazione del presidente onorevole Giorgia Meloni di affrontare da subito quelle che sono quella che è la messa in sicurezza del territorio della viabilità e quindi continueremo con le attività in somma urgenza che verranno interamente coperte e i comuni saranno ristorati quindi poi ovviamente il presidente provvederà a informare il presidente della provincia di Pesaro Urbino e i comuni interessati sul continuare di andare avanti con le opere di somma urgenza e abbiamo già inviato dalla struttura delle indicazioni anche dei format procedurali per inserire quelli che sono quello che è il quadro esigenziale per ciò che riguarda gli interventi di messa in sicurezza che vengono reputati urgenti. Questa mattina c'è stata effettuata la distribuzione all'interno dei comuni colpiti di assisma dei fondi che ci sono stati assegnati con l'ordinanza dello stato di emergenza. Ora il piano dovrà essere approvato dalla protezione civile nazionale e dopodiché il piano che ci ha chiesto la protezione civile nazionale sarà distribuito ai comuni e i fondi saranno materialmente assegnati ai comuni. È questa procedura che è in essere, è questa diciamo la notizia del giorno ma oggi con la visita del generale Figliolo abbiamo preso in uno stato d'avanzamento la gestione di questo stato d'emergenza per i sette comuni che sono stati inseriti fin da subito e noi abbiamo però una richiesta di 160 comuni che deve essere comunque vasa dalla protezione civile nazionale e dalla protezione civile regionale che stanno interloquendo. È chiaro che a questa richiesta bisogna dare una risposta definitiva, ieri due delegazioni dei comuni, sia i comuni diciamo più della parte alta della nostra regione, nella provincia di Pesaro Albino che nella parte centrale, soprattutto il Fermano, sono stati ricevuti dall'assessore Aguzzi per fare un punto della situazione perché le criticità soprattutto sulla viabilità e l'assetto di roce logico sono tante e vogliono avere una risposta su come devono affrontare queste criticità. Su questo stiamo lavorando, la settimana scorsa è venuto il ministro Musumeci, ci sono interlocuzioni con la protezione civile nazionale, è chiaro che il numero di comuni che hanno fatto queste richieste, cioè 160, è un numero molto importante che presuppone un lavoro di screening molto elevato. Ora credo che nelle prossime settimane riusciremo a dare una risposta definitiva a tutti e nel frattempo continuerà il lavoro con i sette comuni già inseriti all'ordinanza come annunciato dal generale Figliolo che tornerà a interloquire a brevissimo la nostra struttura tecnica e ha annunciato anche una visita nelle zone colpite che sono già inserite nell'ordinanza. L'Ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino ha condotto in questi giorni un'intensa attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nelle aziende del settore metalmeccanico che comportano un elevato rischio infortunistico. Nel corso dei controlli è stato adottato il provvedimento di sospensione di un'attività imprenditoriale a causa della rimozione dei dispositivi di sicurezza dei macchinari utilizzati, una lacuna che nel recente passato aveva determinato infortuni sul lavoro anche mortali. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, le foto che state vedendo oggi ci sono arrivate da un nostro telespettatore che chiaramente ringraziamo e che fanno vedere alcuni alberi in via Vattielli nella zona di Villa San Martino che hanno superato, pensate in altezza, le abitazioni e che di fatto ingomberno l'intera via. Una segnalazione di preoccupazione che richiama l'attenzione su un'esigenza di potatura a pochi giorni dall'episodio avvenuto ad alcuni metri di distanza dal sito in questione. Quello di via Cimarosa in cui martedì sera un ramo di pino è ceduto cadendo e ferendo, come ormai ben sapete, una ciclista che transitava in quel momento. Rispondiamo quindi a chi ci ha fornito tale segnalazione che il comune Aspes hanno avviato proprio ieri una profondita ricognizione sullo stato di salute delle piante di competenza comunale. Le api possono essere delle centraline ambientali capaci di fornirci indicatori utili al monitoraggio della qualità dell'aria che ci circonda. Va in questa direzione il protocollo d'intesa siglato oggi in comune tra appunto comune, provincia e ARPAN che porterà a collocare diverse arnie nel territorio pesarese. Vediamo di cosa si tratta. Una rete di biomonitoraggio ambientale avvalendosi delle api come attendibili indicatori. Con questo strumento il comune di Pesaro, provincia, ARPAN e altre realtà vogliono dare valore al territorio marchigiano. Territorio che farà da raccoglitore per le diverse arnie che verranno dislocate fungendo da centraline ambientali. Per questo motivo a Pesaro sarà rilevante il ruolo che ricoprirà il parco Miralfiore che con la sua area naturalistica favorirà la conservazione di biodiversità. Soroptimist International Club di Pesaro è l'avviatore del progetto oltre ad essere da tempo pioniere a favore della tutela dell'ecosistema. Assolutamente parte tutto da un progetto del Soroptimist che è nato per il centenario del club e appunto siccome si voleva tutelare l'ambiente e perseguire anche uno dei nostri obiettivi che è l'agenda 2030, si è pensato di posizionare tante arnie in tutte le città dove ci sono i club Soroptimist e tante famiglie di api e quindi questo è stato fatto anche qua e nel protocollo della provincia del 2021 abbiamo anche già ipotizzato il biomonitoraggio perché c'era già, quindi voglio dire siamo, perseguiamo tre obiettivi che uno è la sostenibilità e anche appunto l'ambiente e la tutela dell'ambiente attraverso le api e anche la loro vita qua, anche diciamo così quello che può essere l'empowerment femminile, noi siamo un club femminile e quindi anche cercare di dare un qualche spiraglio lavoro a delle donne. Non ultimo è importantissimo un'attività didattica e di educazione perché sono previste visite delle scuole anche in tutte sia al centro florovivaistico e poi quando si posizioneranno le altre arnie al parco scarpellinico. Le api lo sappiamo sono fondamentali per l'impollinazione e quindi per la vita delle piante in generale e di conseguenza poi per la vita degli animali che in qualche modo sono legati al consumo delle piante. È un problema di grande attualità perché sappiamo benissimo che le api sono in grave pericolo per l'utilizzo del, in modo particolare per le azioni atropiche e per l'utilizzo dei pesticidi in maniera proprio sistematica e quindi ecco tutto quello che rientra in questa attività di tutela della biodiversità delle api ma anche degli apoidei solitari, insomma tutti gli apoidei in qualche modo sono coinvolti nei processi di impollinazione, sono azioni fondamentali proprio per garantire la sopravvivenza di questi insetti. Gli impollinatori sono degli indicatori biologici fondamentali per quanto riguarda la presenza delle sostanze nell'aria e questo progetto parte proprio da questo, dalla capacità dell'impollinatore che raccoglie nel proprio corpo e nel proprio prodotto, nelle arnie, tutto quello che noi troviamo nel raggio di azione dei medesimi nell'ambito appunto dell'ecosistema che frequentano. Il loro ruolo quindi è fondamentale per questo come amministrazione nel momento in cui c'è stato proposto di entrare in questa rete che ha avuto origine comunque con il centro floristico Ricerche Marche, Brilli e Cattarini abbiamo subito aderito. In occasione del progetto che vi abbiamo appena illustrato in questo nostro servizio l'assessore Maria Rosa Conti ha fornito alcuni aggiornamenti sul nuovo regolamento per quanto riguarda l'installazione delle antenne di telefonia sul territorio pesarese. A me non piace parlare senza avere gli atti sotto mano. Siccome questi atti si stanno concretizzando in questi giorni, sicuramente nel momento in cui sarà concretizzato l'incarico all'importante ente che seguirà questo percorso per rivoluzionare tutto il sistema del rapporto con i gestori di telefonia mobile nel nostro territorio e quindi porterà questo percorso che sarà condiviso con tutta la comunità per la modifica del regolamento relativo e del piano dei siti idonei anche per i prossimi tre anni, spiegherò esattamente in che cosa consiste tutto questo lavoro. Io mi affiancherò a questo ente e chiederò anche il sostegno di tutti i presidenti di quartiere che mi sono stati vicini fino adesso, anche di tutti i comitati che invito di nuovo invece di parlare sui giornali e di venire presso l'assessorato perché comunque insieme al portavoce del sindaco e quindi il sindaco sta seguendo personalmente diciamo tutta la vicenda e io sono soddisfatta del percorso che sta per iniziare però ecco come vi dicevo preferisco parlare non diciamo con delle parole che non hanno ancora degli atti sotto mano anche se sono sicura insomma che la concretizzazione ci sarà da fine mese ma quello che conta è il lavoro che sarà fatto dopo e quello è un lavoro di condivisione della comunità perché ricordo che la tutela della salute è una delle priorità per la nostra amministrazione della propria comunità però noi abbiamo anche l'esigenza di innovazione che è un'esigenza globale e quindi dovremo cercare insieme di contemperare anche questa esigenza perché insomma quando si dice che si sta anche volentieri senza utilizzare il cellulare vorrei capire per quanto tempo chi lo dice e con quanta convinzione. Oggi 20 luglio si è celebrato il 158esimo anniversario della nascita delle Capitanerie di Porto. Nell'occasione il direttore marittimo delle Marche Donato De Carolis e il comandante della Guardia Costiera di Pesaro Claudia Di Lucca si sono recati al monumento ai caduti del mare posto fra Viale Trieste e Viale Napoli dove hanno proceduto alla deposizione di una corona d'alloro in memoria di chi ha perso la propria vita in mare. A Fano nascerà un nuovo bosco urbano da 5.000 piante. Sorgerà in una zona nel quartiere Vallato in prossimità dell'aeroporto che viene rigenerata grazie ad Arbolia, società benefit di SNAM, nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia. Sono state messe a dimora 5.000 specie arbore differenti per far crescere un bosco che avrà l'effetto ambientale di assorbire 700 tonnellate di CO2 in 20 anni e 510 kg di polveri sottili all'anno. Parliamo anche di sport e in particolare di motori. I migliori piloti italiani di moto e enduro saranno sabato 22 e domenica 23 luglio a Sant'Angelo in Vado in occasione dei campionati assoluti d'Italia che vedranno nella nostra provincia la settima e ottava gara stagionale. Per l'occasione il motoclub Tonino Benelli di Sant'Angelo in Vado ha realizzato un tracciato di una cinquantina di chilometri per sette giri, quattro nella gara del sabato e tre in quella della domenica. E cambiamo di nuovo argomento dai motori, passiamo alla musica. Il barbiere di Siviglia, una delle opere più iconiche di Gioacchino Rossini, è pronta ad essere esportata in Cina. Parte infatti un tour di 27 date nei maggiori teatri del grande paese asiatico. Il barbiere di Siviglia atterrerà in Cina. L'esportazione della celebre opera di Rossini toccherà l'altra faccia della terra grazie alla lunga tournée dell'orchestra Raffaello di Pesaro che dal 24 luglio all'11 settembre sarà sul palco dei 27 teatri cinesi più importanti. Il direttore Stefano Bartolucci e l'artista Giuliano Ferri rappresenteranno la famosa opera del compositore pesarese realizzandola in forma scenica, avvalendosi dei dipinti e filmati proiettati. Sono così onorato di portare questa orchestra insieme a un cast di cantanti di grande livello in giro per tutta la Cina per questo progetto di barbiere di Siviglia in 27 città della Cina, città anche molto grandi come Chung Ching, la città più grande del mondo, Shanghai, Hong Kong, Canton e tantissime altre. Questi teatri molto grandi e molto belli che devono soddisfare la grandissima richiesta da parte del pubblico cinese di musica italiana, di cultura italiana. Quindi mi dicono che i teatri sono sempre pieni e quindi sarà una bellissima esperienza poter portare questo orgoglio italiano rappresentato dal grandissimo Rossini in giro per questi grandi teatri. Sarà molto bello anche avvalerci delle scenografie proiettate, composte da Giuliano Ferri, anche lui un pesarese doc, che è il regista e ha fatto appunto queste scenografie da proiettare nel fondale perché chiaramente spostandoci in 27 teatri a grandissima distanza uno dall'altro non potevamo avere delle scenografie massicce, delle scenografie da spostare con camion o con mezzi pesanti. Sono spettacoli di distanza di due giorni tra città, 2000 km una dall'altra e quindi non potevamo spostare le scenografie con dei camion o con dei mezzi fisici. Per cui si è optato di fare queste proiezioni bellissime che Giuliano Ferri ha composto per l'occasione delle proiezioni in movimento che accompagneranno con un lieve movimento per non catturare troppo l'attenzione degli spettatori, per non togliere l'attenzione dai cantanti però un lieve movimento continuo che cercherà sempre di evidenziare l'atmosfera del momento in quell'opera. Continuiamo a parlare di musica, continuiamo a parlare di spettacolo perché continuano gli appuntamenti dell'Arena BCC di Fano sul cui palco saliranno sabato i somari di battaglia del San Costanzo Show. E dopo aver visto sullo schermo i protagonisti del San Costanzo Show con i loro film che è andato in onda qualche giorno fa il 22 luglio saranno in carne e ossa per gli spettatori del secondo anello della BCC di Fano. Con quale spettacolo? Con cavalli anzi somari di battaglia, le migliori gag del San Costanzo Show in giro per le Marche e in questo caso all'Arena BCC di Fano. Ci saranno i più grandi personaggi della storia del San Costanzo Show? Sempre lui? Ditegli qualcosa? Lui non ci sarà. Lui non ci sarà, è un infiltrato. Ci sarà Rosa della Cecca, Orietta Pedotti, tutti i classici personaggi e anche dei nuovi. Ci saranno anche le signore pesaresi, volevo dire, visto che ci siamo a Pesaro, voglio dire, ci saranno le famosissime signore pesaresi, ma non svegliamo nient'altro. Niente, diciamo che vi aspettiamo. Ci saranno balletti, danze e anche music. Arena BCC, vi aspettiamo. Non vedo l'ora di andare in scena con i cavalli di battaglia del San Costanzo Show. Ma non è cavalli, è somari di battaglia. Le più grandi risate della storia del San Costanzo Show. Ragazzi, ma non fa ridere. Il titolo è terribile. No, no, perché? È un emenziale. No, è bruttissimo. Sono mari di battaglia. Sono mari di battaglia. Il San Costanzo Show a teatro. E allora, non perdetevi l'appuntamento con la comicità e con gli amici del San Costanzo Show, ma non perdetevi anche quello che vi faremo a vedere tra pochissimo, intorno alle 8, subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale, il secondo trofeo Pisaurum Young Riders. Vedete questi ragazzi giovanissimi in questo trofeo, quindi veramente è un evento che dovete assolutamente guardare. E poi in prima serata questa sera vi facciamo rivedere la prima edizione di Master Fish, il pesce va in onda. È questo programma realizzato completamente da Rossini TV e che ha visto sfidarsi i locali di pesce, i ristoranti di pesce del nostro territorio. Quindi guardatelo se non l'avete mai visto perché è veramente un programma molto molto simpatico. E poi domani torna la rassegna stampa con voi in diretta alle 7.20. Saremo in diretta sia sul canale 80 come sempre, sia sulla nostra pagina Facebook, sia sul nostro sito che sulla nostra applicazione. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Restate sempre collegati con Rossini TV sul canale 80. Seguiteci anche sui nostri social. A presto. Grazie. Grazie.